Il viaggio ai Molise torna a San Pietro Avellana per la ventottesima edizione della fiera dedicata al tartufo nero, quello estivo. Vediamo cosa ci propongono quest'anno gli amici di San Pietro Avellana in questa puntata di Viaggio ai Molise. Siamo con il signor Mario Diorio, uno degli espositori, in realtà viene qui, accompagna il figlio che è il titolare dell'azienda, un'azienda di Busso, provincia di Campobasso, per sottolineare che tutto il Molise è ricco di tartufo, non solo la provincia di Sernia. Sì, maggiormente ce l'abbiamo pure noi, è ricco, la provincia di Campobasso. Esportiamo in tutto il mondo, non solo in Italia, in tutte le parti del mondo. Quest'anno non è che è stata un'annata eccezionale per la siccità che c'è stata, comunque si è lavorato abbastanza. Ecco, più o meno i prezzi quest'anno come dove si è attestano? 12 euro letto, tra i 10 e i 12 euro letto. Poco a causa della siccità qui? A causa della siccità non è che una grande quantità, però è molto profumato. Siamo con Maurizio Fantone, espositore locale di San Pietro Avellana, uno dei giovani che ha scommesso su questa grande risorsa del territorio, si è cominciato da ragazzi praticamente, insomma adesso avete fatta di strada. Eh sì, sì, sì. Sono parecchi anni ormai che siamo nel mondo del tartufo, quindi... Come va l'attività? Dove vendete? Chiaramente non solo in Molise? Sì, sì, vendiamo in tutta Italia, in Europa, in America, quindi... Internet aiuta chiaramente? Sì, internet... Come è andata quest'anno l'annata? Ma quest'anno è un annato un po' particolare perché c'è stato un sacco di secca, quindi di tartufo non ce n'è stato molto, però comunque la qualità è buona. Non è, diciamo, una pezzatura non è tanto grande, però la qualità è buona. Quest'anno ci sono espositori anche dal vicino Abruzzo, il caso di Federico Pignatelli, da dove vieni? Io vengo da Sulmona, dal cuore dell'Abruzzo. L'Abruzzo è ricco di tartufo e quindi vogliamo rivalorizzare e sensibilizzare le persone alla cultura del tartufo, in quanto non tutti sanno che l'Italia e il centro Abruzzo è ricco di questo tubero. Voi dove raccogliete il tartufo? Solo in Abruzzo o venite anche qui in Molise? Noi raccogliamo il tartufo dalle zone, dalle cave, dai cavatori locali, quindi Abruzzo, a volte anche Molise, Umbria. Della serie Giovani Coraggiosi siamo con Luca Beniamino, viene da Capracotta, ha deciso di investire nelle risorse del suo territorio, ha tirato su un'azienda, cosa proponete? Innanzitutto, buongiorno, l'azienda è incentrata principalmente sulla produzione di legumi e cereali antichi, in particolare la lenticchia di Capracotta, la roveglia e alcuni grani antichi, come dicevo, ad esempio il farro che è il progenitore di tutti i grani, e poi la saragolla che è un grano molto molto antico, ormai in disuso però, che le nostre comunità in montagna coltivavano ampiamente, la solina e poi abbiamo anche i prodotti del sottobosco, come ad esempio il tartufo e i funghi, noi lavoriamo. Chiaramente, stando a San Pietro, il tartufo non poteva mancare, quindi insomma anche Capracotta è una zona abbastanza ricca da questo punto di vista. Capracotta offre principalmente un buon tartufo, un ottimo tartufo nero, scorzone e un cinatum, quindi invernale, e marginalmente nei territori confinanti con Agnone, San Pietro, Garoville, insomma anche del buon bianco, un ottimo bianco, sì. Michelino Rossi, artigiano per hobby, produce i vanghelli, uno strumento fondamentale per i cercatori di tartufo. Certo, è uno strumento che, dico purtroppo, deve essere per forza usato, come dice la legge chiaramente all'articolo 9, che deve essere usato vanghetto, vanghella, di dimensioni che possono variare da regione a regione. Praticamente il vanghello è un elemento indispensabile per l'escavazione del tartufo, in quanto sta studiato apposta per non arrecare danno alla tartufaia e alla micorrizzazione poi della piante e la relativa riproduzione proprio del tartufo stesso. Visto che ci sono varie forme, in Molise quale forma è richiesta? Diciamo che in Molise, la forma per in Molise, la legge dice proprio, testuali parole, che deve essere di una misura massima, fa capire subito che deve essere un rettangolo, di una misura massima di 15 cm per 6 di larghezza e con forma ratonteggiante. L'altro lato, rigido con l'asta, vogliono far capire inamovibile dall'asta, dal resto del corpo del vanghetto. Siamo penalizzati rispetto alle altre regioni, in Molise e in Abruzzo siamo molto penalizzati, perché in altre regioni si possono usare vanghelli di questo tipo qua, tipo Adascia, Sciabola, di questo tipo qua. Sono vanghelli che permettono al cavatore di esprimersi meglio oppure di cavare meglio, secondo le loro esigenze che vanno a mettere in campo ogni giorno sulle tartufaie praticamente. Chiudiamo con questo vanghello San Pietro Avellana 2017 e il premio per la gara dei cani da tartufo in programma oggi, quindi dalla forma diciamo che deve vincere per forza un molisano. Allora lo facciamo così perché innanzitutto siamo in Molise, nell'Alto Molise, il nostro Molise che ne dicono che non esiste, ho voluto fargli questo puntale lucidato a specchio che tra l'altro è un mio brevetto, poi San Pietro Avellana 2017 e sulla base con due cornetti di corno ci ho messo un legno fumato con la scritta gara cani da tartufo 13 agosto 2017. Con questo volevo pure far notare che sono riuscito a fare degli orecchini praticamente con un tartufino incastonato nella resina dove si vede da un lato il peridio che sarebbe la parte esterna o la corteccia se la vogliamo chiamare volgarmente e all'interno la gleba che sarebbe la carne del tartufo. Insomma spazio un pochino, faccio qualcosina di fantasioso. Termina così la prima parte della puntata di Viaggio in Molise dedicata alla Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana. Vi ricordiamo come sempre che potete vedere questa puntata su Telemolise, canale 11, Telemolise 2, canale 12 e sul nostro canale tematico Molise Mio, canale 212. Potete seguirci in Abruzzo sul canale 96 e a Roma e nel resto del Lazio dove trasmettiamo sul canale 880. Tutte le puntate potete rivederle anche sul nostro sito web, vi ricordiamo l'indirizzo www.telemolise.com Tutte le puntate potete rivederle anche sul canale